Bé a tutti ragazzi, ma non c'è la luce, ma c'è la luce, il cono, vabbè, ci sono dei anni 90. Buongiorno a tutti ragazzi sono King e benvenuti in questo mio video con tutti i stupendi, mamma mia non fanno male e quindi benvenuti in questo bellissimo video. Oggi faremo un video scherzo a mia zia perchè metti i sti qui sotto per aiutare il mio padre, quindi mi chiamo mia nonna, vi farò uno scherzo, io faccio un canottaggio, io dirò che se ne è caduto ho incontrato un amico e ora vediamo le lezioni di mia nonna no 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 io non ti sento più luce no no te devo dire una cosa eh te devo dire una cosa va va a va a richiamare un'altra volta va ma sei Federico o sei Luso sei Federico tu il nipote ma sei Federico e dove state in giro in giro beato te beato te ah in giro va bene io non te sento quando ci sentiamo meglio e mi parli ciao ciao una se ci mette così me lo rada bravo rada ok vasciamo non c'è di tempo Grazie. Grazie. Ecco, ora cambiamo persona e andiamo a un amico mio. Che è mio. E diremo che c'è una cosa dentro il film. L'alto! Oh, adesso, che succede? L'alto, lavoravo! Ma come lavoravo? Ma tu non lavori mai? Eh sì! E che stai a fare? Ehm... Mette in sabbia, secchi. Vabbè, ma ti direi una cosa importante. Eh? Ti direi una cosa importante. E dimmi. Sta caduto dentro il fiume. Ah, ti vieni? Ma dove? Casemina, puoi venire, stasera. A che ora? Vabbè... E tu dopo chiamami e... Ma adesso è accaduto dentro il fiume, ti è accaduto. Ok, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Come... Non ci guardate i miei scherzi? Perché? Perché? Perché non voglio rispondere i miei scherzi? Perché? 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 Facciamo così. Questa è una cosa tra me e voi. Questa è una cosa tra io e voi. Facciamo così. Se questo video dovrebbe, dovesse, io all'italiano devo stare a capra, a capra, peggio di cosmo. Se questo video arriva a 20 like, mi taglio tutti per lì qua, mi rado la capaccia a zero solo per i 20 like e mi faccio quella barba. Cioè stiamo? Vediamo il programma a vedere se YouTube è davvero YouTube. Io vi mando un salutone, un po' per voi. Ciao ragioni, ciao belloni, ciao belli. Lasciate like e se non vedete senza peli mi faccio vedere lo cio. non vedete senza peli mi faccio vedere lo cio. Non vedete senza peli mi faccio vedere lo cio. Ciao ai uni. Woooo